Ciao a tutti amici e amiche di Volumbrite, sono qui con Leonid Scevcik e con il mio traduttore personale Ivan Tratter che è un altro dei meravigliosi atleti qui al torneo BNL Open del 2018, sempre qui in questo bellissimo Monviso Sporting Club. Leonid, possiamo darci del tu? Il mio nome è Leonid Scevcik, vivo in Mosca, in Mosca, per me in 67 anni, giro il tennis vulture nel 26 anni, il mio lavoro è ora di 47, 48, Scevcik, next week, next week, my rating is a little bit up, perché in torneo BNL Torino, lost the second round is the points and lost. Ok, Leonid non parla tanto bene italiano e abbiamo chiesto a Ivan di darci una mano, quindi con un mix di inglese, tedesco, un po' di italiano, proveremo a raccontarvi un po' di Leonid Scevcik. Quindi Ivan, un po' riassumici cosa ci ha detto Leonid. Allora, Leonid è nato a Mosca nel 1067, gioca tennis in carrozzina da 26 anni, al momento ha un buon ranking, ma ha detto che la prossima settimana perde punti e poi sale un po' in classifica. Qual è stato il tuo avversario più forte, quello con cui hai combattito di più? Qual è stato il tuo avversario più forte per questo turnio? Il tuo avversario è stato un giusto per questo turnio, ma è stato un giusto. Il tuo avversario è stato un giusto per questo turnio, ma è stato un giusto per questo turnio. grazie anche, a me guardo che è stato un luogo sc medico e ma è stato un giusto per lo stesso Twe day, Miove, bentbice, spavre in tutta anche se preifed wraz e non tracere, ma è stato un giusto per lo stesso attacchiscono. ma il match contro Arca Luca, non è buono, perché non c'è il trening e il tennis è contro, perché non c'è il trening. Lui ha perso in questo torneo contro Luca Arca, nel suo match aveva un problema con la carrozzina, perché si è rotta qualcosa, non ha capito bene qualcosa, ma dice che mentalmente stava pensando sempre a questo problema, per questo faceva fatica a giocare bene. Ok, quindi diciamo che per gli atleti è importante avere una condizione psicologica tranquilla, essere tranquilli, perché l'ansia e l'agitazione giocano brutti scherzi. Ok, last question. Prossimi progetti, prossimi tornei a cui parteciperà? Dei prossimi torniere, che tu fai spiegare? Il prossimo turnio è il mio plan di svizzera, il svizzera open, in Gineva. Io viro per la Gineva oggi, perché è il primo giorno di arrivare a Montag. è stato un giorno qui. La situazione è super, il club è super, la organizazione è normale. Per me è piaciuto il secondo round, è normale. La situazione è normale. Non pensi come si spiega, il ball è bene, non è bene. È normale, l'organizzazione è normale. Allora dice che domani sta qua ancora un giorno e poi va a Ginevra a fare il prossimo torneo. E poi dice che qua si sta bene con il sole e che il torneo è organizzato bene. Era contento che già nel secondo turno c'erano gli arbitri. Sì, sì. Insomma commenti positivi anche da Leonid. Ti facciamo un in bocca al lupo. Buona luck per il vostro futuro, per il vostro Sviterland Open. Sviterland Open, nel prossimo anno. Ok. Grazie. Grazie a voi due. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.